Un cavallo in famiglia con Marco Di Paola qui a Cavalli a Roma. Presidente, come sta andando la manifestazione che è appena iniziata? Sta andando molto bene perché il cavallo è al centro del nostro mondo. Il cavallo per noi è un compagno di giochi con tutti i bambini che giocano con il pony. Il cavallo è un compagno del tempo libero con il turismo a cavallo. Il cavallo è un compagno di vita, c'è tanto attività terapeutiche che svolge il cavallo. Il cavallo per noi è anche un compagno di sport, un cavallo atleta con tutte le manifestazioni che potete trovare dentro di una fiera. Quindi la fiera del cavallo, non degli sport equestri, la fiera del cavallo a cui noi teniamo nella capitale d'Italia. Vi aspettiamo numerosi. Grazie Marco, ci vediamo quindi domani e anche domenica. Grazie a tutti gli amici di Un Cavallo in Famiglia e veramente grazie per la vostra passione e per l'amore che mettete nel cavallo perché è un compagno di vita per tutti noi, una grande passione. Grazie Marco.